L'Aquila Calcio è finita, non è stata iscritta al prossimo campionato di Serie D, si ripartirà da zero, come del resto aveva auspicato anche una parte di tifoseria. I Red Blue Eagles nella giornata di ieri hanno espresso tutta la loro rabbia, tutti colpevoli, nessuno escluso, tutti sullo stesso piano secondo loro, soci, dirigenti, vecchi e nuovi, politici, imprenditori sciacalli, ius, giornalisti, ma anche comunicatori, collaboratori e tifosi, appellati in un modo che in tv non si può ripetere e poi un sonoro invito ad andare tutti a quel paese, ma non solo, perché in città, nei cantieri della ricostruzione di Chiodi Mancini, cioè la proprietà, ma anche di Elisao Iannini, che con un comunicato aveva detto di non essere interessata all'Aquila Calcio, quando invece era stato accostato a delle trattative per rilevarla insieme ad altri imprenditori aquilani, sono comparsi striscioni inequivocabili, l'Aquila rinasce ma l'Aquila Calcio fallisce, vergognatevi. Nel giorno del termine ultimo per presentare la documentazione, Gianluca Iussi, il manager romano presidente del CDA, non ha completato l'iscrizione, nel giorno prima c'era stato un botta e risposta con l'assessore Piccinini e già l'aria si era capita. Insomma, l'assegno non è stato depositato e neanche il pagamento dei lodi ai vecchi giocatori, l'Aquila Calcio quindi sparisce per l'ennesima volta, il terzo fallimento in vent'anni nel cantiere più grande d'Europa. Dal punto di vista amministrativo, oggi la responsabilità è di Iuss, ma le quote sono ancora in mano alla vecchia proprietà, un fallimento che di certo avrà conseguente pesanti. Ora i tifosi chiedono alla politica, che mettono comunque sul banco degli imputati, di trovare una soluzione per ripartire da zero.